11 della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra. Sono contentissimo di vedere tanti miei concittadini presenti qui. Mezz'ora fa eravamo in questa sala qui, alla mia sinistra, la sala più importante del Comune, la sala del Consiglio. Penso di aver vissuto una delle più belle riunioni di Consiglio Comunale, perché con una riflessione, una discussione pacata, all'unanimità di tutti i consiglieri, consiglieri che hanno riferimenti diversi, che hanno appartenenze diverse, ma all'unanimità è stato approvato un documento che condanna l'invasione dell'Ucraina, che è a fianco della popolazione e soprattutto che condanna la guerra. Ringraziare di cuore che siete qua, perché veramente da noi che siamo lontani e vivere questi giorni non voglio augurare nessuno, perché quando c'è il papà, sorella, tutti i parenti che più troppo stanno vivendo, che tanta verità non stanno gente, perché anche in Russia ho giocato ok, ho giocato tre anni in Mosca, e ho tantissimi amici che mi hanno scritto, ma loro non sanno veramente la verità, perché più troppo Putin non lo dice cose, dice solo cosa vuole lui. E allora loro capiscono, però c'è tanta gente che magari è contro l'Ucraina perché non sanno la verità, più troppo. Io, mio parente, tutti i giorni vivo per sentire solo che sono vivi, perché sono più sotto da cantina che a casa non riescono a lavarsi, non riescono a mangiare. I bambini, più troppo soffrono tanto bambini, donne, bambini, che non hanno più pannolini, non hanno più latte, sta finendo tutto. Io ho anche due cugini che vicino a Cernobolo, a Cernigo, a Città sta distrutta perché ha bombardato tutto. C'è Palazzo che ha visto la guerra di 1945, questa guerra ha buttato giù. E più troppo sta distruggendo tante città, anche Kharkov, Kiev, Nicolae, Mariupol. E' proprio una cosa senza senso che lui non è uscito a fare con armi, sta facendo male gente, buttando bombe sul caso civile. E questo veramente ti fa... io non so che 2022 dobbiamo arrivare a questi livelli. Vi ringrazio tutti di cuore. Io voglio solo pace per mia terra che è nata e ci ho tante parenti lì. Vi ringrazio tutti. Grazie. Grazie a tutti.